Quattro anni a confronto sul miglio, undici concorrenti alla via Santiago De Leon, Sannitz, Sacro Jet, Sassuolo, Spenta, Cass, Sofia LL, Spencer, Bri, N In seconda fila, Scheggi Almar, Schubert, Thor, Sovrana Par, Satanasso F.I. Su Spencer, Bri, N. Antonio Storti al posto di Francesco Pettinari e Sovrana Par con Vincenzo Minopoli al posto di Mario Minopoli Jr. Gradualmente la macchina va in accelerazione, sbaglia Sassuolo, la macchina che stacca in questo istante si avvantaggia Sacro Jet, respinge Spenta Cass lungo la corda Santiago De Leon con all'argo Sofia LL più all'esterno anche Spencer, Bri, N. Il passaggio a primi 200 metri per Sacro Jet in 13,7 valli che hanno quasi completato la prima curva con Sacro Jet in vantaggio Sacro al comando, Spenta Cass di rincalzo, sposta Santiago De Leon che si presenta su Sacro Jet, all'argo anche Sofia LL e Santiago De Leon va deciso su Sacro Jet e sfila dopo 600 metri in un comunque veloce 43,5 Santiago Sacro e poi Spenta Cass, all'argo Sofia si porta presso Satanasso FI in quarta posizione allo steccato Scheggia Almaro, 800 in 59,3 la rottura di Satanasso quando i concorrenti affrontano ora la retta opposta alle tribune Santiago De Leon in vantaggio su Sacro Jet, ha sbagliato anche Sofia LL 1,13,7 il primo chilometro, Santiago in vantaggio, Sacro di rincalzo poi Scheggia Almaro che sta perfezionando il sorpasso di Spenta Cass cerca di farsi avanti anche Schubert e Thor, mancano 400 alla conclusione Santiago in vantaggio, 1,28,1 sbaglia anche Scheggia Almaro, Santiago al comando, Sacro Jet che lo fila inizia ora la lunga retta di arrivo, Santiago in vantaggio, Sacro Jet che lo segue poi ancora Schubert Thor, quindi Sovrana Par, Santiago in vantaggio, Sacro che è stanco ed è incalzato da Schubert Thor, intanto Santiago se ne va a vincere facile mentre Sacro Jet precede Schubert Thor, poi Sovrana Par e Sannitz il facile successo per Santiago de Leon, training di Francesca Croce che Bissa è successo come allenatrice ottenuto in precedenza con Palomitas sul totale io a 1,58,7 la media in 1,14 forse un filo scarso considerando il parzialino quindi Santiago de Leon, Biagio Lo Verde, Francesca Croce, colori della scuderia la Tor, quota al totalizzatore di 4 spiccioli e tempo al chilometro intorno all'1,14 è tutto per oggi da Capannelle e un saluto da Via Riberti